Commedia scritta ai noi da Lucio Pierri, da Lello Marangio abbiamo veramente un mattatore perché Lucio si spende tanto e noi insieme a lui, io mi metto in gioco tanto, noi in questa commedia Devo dire che Maria Mazza che fosse brava e bella già lo sapevamo ma che fosse così straordinariamente brava, devo essere sincero, è stata una piacevolissima sorpresa anche per me stessa No, facemmo l'ucine da più di matare Noi non abbiamo alternative, nel senso che noi stiamo cercando di mettere in scena contemporaneamente teatro, cinema e televisione Il risultato qual è? O viene a fare una cosa esagerata o viene a fare una scelta senza precedenti cioè non abbiamo vie di mezzo, cioè bianco e nero, poi staremo a vedere